Buongiorno, ben alzati, ben ritrovati, voi davanti alla vostra prima tazza di caffè o di tè, a seconda di come volete iniziare la giornata, noi davanti al nostro touchscreen con i giornali pronti, resto del Carlino e Corriere Adriatico per la rassegna stampa o che i giornali alle 7.30 puntualmente come tutte le mattine qui per farvi vedere una carrellata dei titoli e delle notizie che troverete all'interno dei quotidiani negli inserti locali, prima di fare questo però come sempre il santo del giorno, l'almanacco e poi le previsioni del tempo. Vediamo oggi che cosa ci dice il calendario, mercoledì 5 aprile, San Vincenzo Ferrer, sacerdote, il sole è sorto alle 6.41 e tramonterà alle 19.40. Previsioni del tempo per oggi, mercoledì 5, appunto vediamole anche con l'ausilio della grafica, cielo nuvoloso con graduale attenuazione nella copertura nel corso del pomeriggio, di iniziare dalla fascia costiera, precipitazioni sparse nel settore alto collinare e montano localmente anche a carattere di rovescio tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane. Le temperature sono in lieve diminuzione. Vediamo giovedì che è forse il giorno un po' più pesante della giornata, della settimana, previsioni appunto con cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con graduale attenuazione della copertura dal tardo pomeriggio. A iniziare da nord vedete anche la simbologia, le nuvole molto cariche, molto intense anche di colorazione, quindi le temperature senza variazioni di rilievo, però anche fenomeni di rovescio o di temporale che potranno risultare anche abbondanti nel settore centro montano, vedete però anche sulla costa compare la simbologia della pioggia. Previsioni per venerdì, si va tendenzialmente vedete al bello, cielo sereno o al più poco nuvoloso, sole pieno sulla costa, nessuna precipitazione e temperature stazionarie e la tendenza per i giorni successivi, quindi per il fine settimana, sarà un tempo stabile, tendente al bello con le temperature in aumento. Questo è quello che si prospetta dal punto di vista meteorologico. Partiamo con i giornali, vi faccio vedere la pagina di apertura dell'inserto del Corriere Adriatico, telecamere sul Miralfiore, si parla di sicurezza, naturalmente sicurezza per quanto riguarda una parte di Pesaro importante, è una di queste parti qui abbastanza presa di mira anche da malviventi, da delinquenza, insomma quindi si vuole fare una missione sicurezza, finanziamento da 350 mila euro e un progetto con diverse associazioni per riqualificarlo, questa è la notizia in taglio centrale, poi rivolta degli sfollati, non ci muoviamo a Porto Sant'Elpidio, si parla naturalmente di accoglienza, accoglienza in migrati. Le notizie all'interno poi naturalmente le vediamo e sono queste, vi faccio vedere la pagina che riguarda appunto il Miralfiore, l'articolo in taglio centrale, operazione sicurezza perché sono in arrivo fondi e telecamere con il progetto Arcadia, appunto vedete tutti anche in questo reading tutte le parti e i capitoli di questo intervento che riguarderà il Parco Miralfiore. Poi si parla di eventi, eventi estivi, la Notte Rosa è sempre stato un evento cavalcato da Pesaro, però dalla Romagna arriva ahimè uno schiaffo dai grandi eventi, Notte Rosa è un po' smemorata, Pesaro è stata dimenticata, la città aderisce al Capodanno dell'estate ma non figura, è stata una svista o una volontà disappunto da parte del Comune e la beffa arriva nel giorno in cui alla BIT si lancia la campagna per il turismo post-sisma. Da Urbino c'è un professionista che tutti quanti più o meno conosciamo perché l'abbiamo visto anche diverse volte in altre trasmissioni, Simone Giuseppe Cristini che va a Bruxelles, il professionista delle cerimonie e conquista anche le Nazioni Unite, Giuseppe Cristini ospite all'ONU a Ginevra, sarà l'unico rappresentante delle marche, sul tavolo ci sono la valutazione, lo studio e gli insegnamenti dei protocolli. Stiamo parlando naturalmente di gusto, di enogastronomia che è un plasso sicuramente importante per la nostra regione con tutte le eccellenze enogastronomiche che la regione Marche ha. Fano, la pagina di Fano del Corriere Adriatico parla di porto turistico legato al rilancio del territorio, cambia il vento per usare un termine marinaro, il Presidente di Marina dei Cesi sottolinea la ripartenza del settore e della cantieristica. L'area è sicura e per i servizi abbiamo sempre note di merito dall'utenza, dall'utenza dal diportismo naturalmente che affolla la Marina dei Cesi. Nascondeva la droga negli slip, un minorene finisce in manette, un ragazzo diciassettenne, fermato dai carabinieri in stazione perché aveva un fare abbastanza sospetto che ha allarmato i carabinieri che lo hanno appuntato, gli hanno chiesto documenti, identificazione e poi è portato in caserma, ha consegnato lui stesso 250 grammi di marijuana che nascondeva appunto negli slip. Bene, guardiamo la pagina della Val Cesano, andiamo a Pergola, un lancio alla Beat per tartufi e bronzi dorati, una sicuramente delle nostre eccellenze territoriali appunto alla Beat in questi giorni si sta parlando di territorio e di turismo e come dicevo prima ci sono tanti punti delle marche che hanno naturalmente tanti piccoli scrigni da regalarvi per le vostre gite. Allora andiamo a Senigallia con il Corriere Adriatico, l'ultima pagina che vi faccio vedere per questo quotidiano, pronte le squadre antisballo, l'ordinanza prevede l'isola pedonale sul lungomare Alighieri, vedete qui un telelaser della polizia locale, parti sotto le stelle, sorvegliati speciali, occhi puntati sui giovani, obiettivo vietare le eccessi di alcol, operazione sicurezza anche sul lungomare, ripristinato il servizio notturno dei vigili urbani e il telelaser nella zona 30. Bene, archiviamo il Corriere Adriatico, partiamo con il resto del Carlino, la pagina di apertura dell'inserto della provincia di Pesero. Foto centrale, la rivolta solo nell'ultimo mese a Pesero, 10 esposte alla procura di moglie e figlie contro mariti o padri musulmani accusati di maltrattarle o segregarle, dopo vedremo l'articolo anche all'interno e poi una barista vicina all'inferno, stiamo parlando di quello che è successo a San Pietroburgo, era a un paio di chilometri dall'attacco terroristico. Tifosi contro giocatori, volano pugni sull'auto, stiamo parlando della crisi della VL, ve la faccio vedere, la pagina che è una delle due pagine del resto del Carlino dedicate al lancio, nella foto notizia Islam e conflitti, questo è il titolo. Le nostre donne come diamanti, ma la violenza tocca tutte le etnie, parla di mamme di cinque torri, per noi sono cosa sacra da non esporre, questo è il suo pensiero e lo vedete qui con il tacquino alle mani. La religione dice che non c'entra, molti musulmani immigrati, soprattutto i giovani, non sanno l'arabo e leggono testi sacri in modo distorto. La mia posizione dice che viviamo in un paese laico dove l'imposizione non funziona, noi educhiamo a rispettare i dogmi. Nell'altra pagina ci sono altre considerazioni, vi invito appunto a leggerla per avere la completezza della notizia. Il lancio in testa appunto che riguardava la strage di San Pietro Burgo, assunta a Barista Tranquilla, vicino all'Inferno, la titolare del bar Romeo che vedete qui nella foto, racconta quello che ha vissuto e contattata dai suoi, dice, sentivo elicotteri e le ambulanze, insomma sicuramente, e qui vedete anche al centro le foto che riguardano quegli attimi così insomma tragici. Nonostante la tragedia però ho visto molto cuore e umanità tra i russi coinvolti, ognuno cercava di erutare gli altri, il resto qui sul Baltico fino a sabato prossimo. La pagina di Fano, del resto del Carlino, apre con l'arresto del 17enne che nascondeva negli slip la droga, dopo la convalida il giovane è stato sottoposto alla misura della permanenza in casa. L'altra pagina del resto del Carlino di Fano riguarda un'opera che si realizzando ormai diremmo che è quasi terminata, la scala della Rocca simile all'antica, qualcuno ha contestato l'impatto ma l'ingegnere replica è la forma più esile possibile, ormai ultimati gli interventi che consentiranno eventi per mille persone, finalmente la Rocca Malatestiana, questo bellissimo giardino all'interno potrà ospitare tantissime manifestazioni e insomma dare modo appunto di godere appieno di questo spazio grazie appunto a questa uscita di sicurezza che è stata tra l'altro ricavata in una porta che già esisteva, era una porta che è stata riaperta quindi non c'è stato nessun intervento invasivo e si è ricreato una scala, chiaro quella dell'epoca era ben diversa però qualcuno l'ha notato, proprio le tracce lungo il muro di questa scalinata, adesso si è fatta questa qui in tutta sicurezza che vedete appunto nella foto ma se andate lì lungo le mura la potete vedere di persona appunto parla l'ingegnere Stefano Caiterzi che ha firmato il progetto con l'architetto Giangolini e appunto questo permetterà presto di avere a pieno regime lo spazio della Rocca. Allarme processionari, chiudiamo con questo, le vedete qui nella foto, 100 nidi rimossi ma anche i privati facciano la loro parte, l'assessore Fanesi avverte un'ordinanza che però impegna anche i cittadini a sorvegliare e a segnalare l'invasione in questo periodo delle processionali. I bruchi sono ricoperti di peli molto urticanti, il rischio maggiore naturalmente sia per bambini in caso li tocchino e per gli animali, per i cani e per i gatti. Bene, attenzione quindi alle processionali. Grazie per essere stati in nostra compagnia, io mi fermo qui, la rassina stampa torna domani mattina alle 7.30 puntualmente, questa sera occhio alla notizia alle 20.30. Grazie e buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti.